Un paterno in grande crescita cerca l'abbrivio salvezza in uno scontro diretto contro un 11 pesantemente condizionato dall'assenza e che imposta un match attendista con un primo tempo di sostanza di fronte ai marzicani che faticano a carburare. E così la prima azione cade al diciottesimo e vede Mercogliano calciare alto dal limite dell'area. Nei minuti seguenti i padroni di casa provano a salire di tono e a innescare le bocche da fuoco come Mastroianni che sull'inzuccata su rimessa di Fellini testa i riflessi di falso che però blocca senza particolari problemi. Azioni ospiti non ce ne sono ma nel corso della ripresa qualche spunto in più si paleserà e lo vediamo già al terzo quando un super Mastroianni si inventa una girata d'effetto ma il legno lo frena sul più bello. Nero azzurro in rampa di lancio e dopo 60 secondi Mercogliano prova di nuovo a scaldare il suo piede educato ma impreciso quest'oggi. Ripresa a forti tinte marzicane e una nuova rimessa locale mette di nuovo in azione la incisiva zucca di Mastroianni che non fa tremare però un falso sempre vigile. Al quattordicesimo poi l'episodio che avrebbe potuto rovinare il match paternese. Scalcia di Fabio l'arbitro lo vede e lo manda anzitempo negli spogliatoi. Locali in dieci ma il delfino non ne approfitta anzi dal quarto d'ora in poi in campo c'è solo il paterno. Ventisettesimo non è giornata per Mastroianni che carica tentando la prudezza balistica ma prima la traversa e poi la linea gli tarpano le ali. Sembra la classica domenica in fausta per i ragazzi di torti invece al trentaseiesimo a svettare la torre che non ti aspetti cioè il mini bomber di Virgilio che sugli sviluppi di un calcio di munizione indirizza l'incontro. Tracce ospiti finalmente proprio in chiusura di match. Siamo al quarantaquattresimo e l'ennesima rimessa corner della giornata pesca d'Alessandro all'inzuccata di poco a lato. Su capovolgimento di fronte però Sassarini trova varchi inusitati quindi serve per il neo entrato Stornelli che è potente e preciso e blinda ai tre punti con un 2 a 0 meritatissimo che regala una bella fetta di salvezza all'undici marsicano. Mister Bonati si era messa bene invece poi? Si era messa bene, stavamo portando uno 0 a 0 a casa che in questo momento era un ottimo risultato perché le nostre potenze offensive sono ovviamente poche. Poi ovviamente quando non fai gol, quando non fai poche azioni pericolose, quando sei poco pericoloso può succedere che su una pallina attiva prendi gol quindi non mi sorprende la situazione, la difficoltà le conoscevamo, in questo momento ovviamente siamo sterili e quindi è difficile portare a caso un risultato perché non si può sperare di passare 95 minuti in tennis, si dovrebbe fare qualcosa in più che in questo momento c'è difficile per una questione numerica di persone a disposizione. Mister Torti, è arrivato il paterno? È arrivata la vittoria. È arrivato anche il gioco, è arrivata la prestazione? Il primo tempo loro si sono messi dietro tre linee molto strette, 4-4-2, non venivano mai fuori, ci aspettavano per poi fare qualche ripartenza. Noi siamo stati sempre padroni del campo e il secondo tempo è un paradosso, nel momento in cui c'è stata l'espulsione di Di Fabio la squadra si è compattata ancora di più e sembrava che non eravamo in dieci. Di fatti poi alla fine ha vinto un periodo meritatamente, abbiamo preso un palo, una traversa insomma, la squadra rende il secondo tempo a me piace da tanto.